Camminatori, buongiorno! Io sono in un posto meraviglioso, precisamente in Sardegna, a Stintino, Lettonnare e oggi vi parlerò di un'app per outdoor che è sia per Android che per iOS ma prima di iniziare con l'app voglio farvi vedere dove mi trovo Ed eccola qui la nostra ViewRanger di cui oggi avrei voluto parlare ci clicchiamo sopra così faccio vedere anche a voi che dice che è diventata outdoor active quindi credo che probabilmente tra poco sarà totalmente assorbita da quest'altra applicazione quindi inutile parlare di ViewRanger andiamo direttamente su outdoor active questa sarà la schermata iniziale su cui vi ritroverete e devo dire che la mappa è abbastanza dettagliata questa è la prima mappa, quella gratuita, questa è la versione free abbiamo delle linee altimetriche, i sentieri sono segnati queste linee tratteggiate che vedete sono segnate sono andato apposta su una zona che conosco abbastanza bene che è quella della Maiella e a memoria i sentieri principali sono tutti tracciati quindi devo dire per essere una versione free di una mappa è molto molto dettagliata iniziamo qui dalla parte in alto a sinistra c'è la bussola che ci dice da che parte siamo girati con tutte le informazioni specifiche non è nulla di particolare, qui al centro abbiamo mostra contenuto ora non abbiamo ricercato nulla sui filtri, non c'è niente se mettessimo dei filtri ci darebbe i risultati della ricerca possiamo nascondere il contenuto questo qui a destra, questo pallino verde in alto a destra lo lasciamo per dopo che è il calcolatore di percorso andiamo invece a vedere il menu a comparsa abbiamo la ricerca, qui basta cercare qualcosa e ci troverà il punto molto semplice gli itinerari, qui dovrebbe farci vedere i percorsi sono i percorsi che i nostri utenti, cioè che gli utenti come noi hanno salvato non sono tutti i percorsi ufficiali per quelli ufficiali c'è bisogno di scaricare la versione pro possiamo vedere però cliccando su uno di questi percorsi che tipo di percorso è chi lo ha caricato, eccetera, eccetera è una funzione carina ma per questo devo dire è molto ma molto più fornita ed attrezzata Wikilock cioè se state cercando un percorso in una determinata zona usate Wikilock che è molto più utilizzata andiamo avanti Baite e Rifugi ecco, questa è una piccola pecca se andassi sempre nella zona del Monte Amaro a cercare una Baite o un Rifugio non mi dà assolutamente niente eppure qui sulla cima del Monte Amaro c'è il famoso Mario Perino che però è un bivacco magari non trova i bivacchi ma a poco distante dal Mario Perino ci dovrebbe essere il Rifugio Manzini eccolo qui e infatti non me lo segna questo è veramente un peccato perché poi se invece ci spostiamo sull'Arco Alpino qui i Rifugi sono segnati quindi mi chiedo perché nella zona Nord si è invece sull'Arco Appenninico non mi dà assolutamente nulla punto a sfavore per questa app stessa cosa per i posti da visitare sì, ci dà veramente poca roba ecco, un po' di più in Toscana ma mi sembra strano che secondo questa app Abruzzo, Lazio e Molise non abbia posti da visitare è da migliorare questa funzionalità località sciistiche stessa cosa ce ne dà un bel po' qui a Nord al centro Italia secondo quest'app non si può sciare bene andiamo avanti possiamo continuare a fare ricerche per diciamo per argomento sempre dallo stesso menu nella parte sottostante invece abbiamo la parte un pochino più social ci sono le challenges che sono praticamente delle sfide a cui tu puoi iscriverti e accettare cercare di compiere sono cose molto divertenti per chi ama diciamo fare queste cose in maniera social è la parte un po' più social va facciamo così è un modo per incentivare la gente a vivere delle avventure quindi io non posso che essere a favore di tutto ciò sotto abbiamo il bollettino valanghe è estate quindi non dovrebbe essere vuoto scopri Outdoor Active e questo invece ci rimanda al sito di Outdoor infatti ci porta sul browser e ci porta sulla home page di Outdoor Active ottimo andiamo adesso nascondiamo contenuto a quello che è invece il tracciatore di percorso stiamo sempre come punto di riferimento sulla mia amata maiella apriamo eccoci qua siamo nella zona più alta Monte Acquaviva Monte Amaro cliccando qui in alto a destra sul calcolatore di percorso ci dice come creare il nostro percorso una breve spiegazione andiamo avanti è molto semplice io ipotizzando che io voglia partire dal Monte Acquaviva qui al centro mi basterà clic tenere premuto su questo punto della mappa e mi aggiungerà il punto A ipotizzando che io voglia arrivare al Monte Amaro devo semplicemente tenere premuto sul punto B e automaticamente ci calcolerà il percorso più breve qui in alto su questa barra già si vedono ma possiamo anche ingrandire ci dice che abbiamo 6,2 km da fare in circa 2 ore e un quarto per 376 metri di salita e 326 di discesa partiamo dai 2750 per finire per scendere e risalire ai 2800 insomma tutte le informazioni del caso possiamo anche aggiungere un terzo punto continuando nella stessa maniera o tornare indietro e cancellare l'ultima azione qui su questa barra in basso basta fare indietro qui scegliamo il tipo di escursione lasciamo escursionismo possiamo anche aggiungere un punto intermedio se ci rendiamo conto che vogliamo andare ad esempio a vedere il Monte Pesco Falcone e invece ce ne siamo dimenticati teniamo premuto sulla traccia blu mettiamo inserisci un punto sul percorso spostiamo questo punto B su Monte Falcone e automaticamente ricalcolerà il percorso portandoci anche dal punto A a Pesco Falcone da Pesco Falcone al Monte Amaro è molto semplice intuitiva devo dire questa funzione è anche migliore di quella che offre Locus Map che io adoro tanto quindi su questo vince questa app possiamo decidere se avviare il navigatore e seguire questa traccia oppure fare salva e quindi salvare il nostro percorso se invece facciamo crea percorso lo mettiamo disponibile praticamente per la community lo possiamo caricare e chiunque può usufruirne invece su salva andiamo a salvarlo sulle nostre tracce tutto quello che salviamo ricerchiamo i nostri progetti le tracce eccetera eccetera lo troviamo in basso a destra sulla sezione profilo qui troverete scorrendo verso il basso le vostre tracce i progetti i percorsi anche importati sui progetti ad esempio anzi scusini sulle tracce c'è un cammino che ho fatto l'estate scorsa che è salvato sul mio telefono l'ha importato automaticamente che è il Molise Calling se non vi siete persi i video del Molise Calling andatevi a vedere la playlist sulla pagina il cammino del cretino mi raccomando iscrivetevi 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 bene abbiamo visto anche il tracciatore di percorso nella parte sottostante se clicchiamo sul pallino in basso a sinistra va alla posizione attuale io in questo momento mi trovo in Sardegna un posto meraviglioso che si chiama Stintino e infatti dà la mia posizione qui a Stintino se ci riclicchiamo sopra ci dovrebbe dare anche l'orientamento ecco infatti se riclicchiamo la terza volta la mappa si girerà in base alla direzione che noi abbiamo ma questa è una roba che a me mi snerva sinceramente quindi preferisco tenere direzione nord in basso a destra invece abbiamo una piccola menù a scomparsa dove abbiamo delle funzioni pro che vedremo dopo fra le quali ce n'è una molto molto interessante credo la più interessante di tutti che è la Buddy Beacon Buddy Beacon che cos'è? ci permette di vedere la posizione in tempo reale e di trasmettere la nostra posizione in tempo reale quindi io posso vedere magari il mio amico che è partito il giorno prima dove si trova in quel momento se è attiva questa funzione e lui può vedere me o anche se avete la mamma pugliese come la mia gli potete fornire un dispositivo e attraverso questa funzione lei potrà sapere minuto per minuto dove vi trovate ho risolto un sacco di problemi della verità in basso a destra su questi quattro foglietti tre foglietti uno sull'altro invece abbiamo la classica sezione mappe per la versione free abbiamo solo sta mappa con la versione pro possiamo accedere a tutte le altre anche la rete questa è una cosa che un po' mi dispiace la rete sentieri bici mountain bike attività invernali a cavale eccetera eccetera è disponibile da visualizzare direttamente sulla mappa solo se ci iscriviamo alla versione pro abbiamo anche sotto segnalazioni e chiusure info valanghe la famosa buddy beacon di cui vi ho parlato prima questa è una panoramica generale ragazzi di questa app allora andiamo a vedere anche che cosa offre la versione pro scopriamo tutti i vantaggi allora per 2,50 euro al mese possiamo avere le mappe aggiuntive praticamente di cui vi ho parlato prima togliamo tutta la pubblicità e abbiamo la possibilità anche di scaricarci percorsi a mappe in maniera offline che è fondamentale quando siamo in escursione fatelo sempre mentre se addirittura ci iscriviamo alla versione pro plus al doppio del prezzo abbiamo tutte le funzioni di cui abbiamo già parlato più la cartografia aggiuntiva con dettagli ma questa serve veramente a chi fa il tipo di escursioni molto molto impegnative è di un certo livello però possiamo aggiungere un widget direttamente sul nostro sito sul nostro blog dove condividere i nostri percorsi molto interessante anche per chi ama il videomaking di la la funzion la funzione scusate devo bere la funzione dell'acqua ma anche qualcos'altro va bene la funzione 3D che praticamente ci fa vedere in 3D tutto quello che abbiamo registrato in un percorso o abbiamo programmato di fare è molto carina questa funzione del 3D la credo che la prima sia stata proprio Viewranger a metterla disponibile quindi è giusto che essendo una un'app che assorbirà Viewranger che sia anche su questa app questo è tutto ragazzi devo dire la versione free è carina non è trascendentale forse Locus Map offre qualcosina in più gratuitamente passando alla funzione pro questa app ha credo tutte le caratteristiche per essere un'ottima app quindi per chi usa iOS credo che sia una delle migliori al momento l'unica cosa è che vi ci dovrete abbonare spendete 2,50 euro almeno per la versione pro e avrete tutte le funzioni aggiuntive mappe offline mappe dettagliate è un ottimo è un ottimo investimento facciamo così se volete fare escursioni bene ragazzi è stato un piacere anche questa volta iscrivetevi al canale e ricordate sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino in cantino stavo dicendo sì vabbè ciao ragazzi ciao ciao